Buongiorno a tutti, io sono Stefania Signoroni, sono psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale familiare e vi do il benvenuto a questo nostro momento insieme. Ho deciso di intitolare questo momento di condivisione Costruire la felicità, questo per due motivi. Uno è che penso che sia fondamentale che la figura dello psicologo non sia soltanto da incontrare quando ci si trova in uno stato di difficoltà, ma che sia importantissimo che collabori alla costruzione del benessere. L'altra ragione per cui ho scelto di parlarvi di felicità è che penso che più che mai in questi giorni ce ne sia bisogno e visto che il nostro cervello funziona per associazioni, se noi parliamo di felicità, ci concentriamo su di essa e raccogliamo idee per accrescerla, attiriamo positività. La felicità, se ci pensate, è uno stato emotivo che in generale amplifica le nostre risorse. quando siamo di buon umore siamo più belli, appariamo agli altri più distesi, più rilassati, quando siamo felici siamo più in grado di fare molte cose perché ci vengono delle idee alternative, mentre quando siamo arrabbiati molto spesso magari ci sarebbe una soluzione a portata di mano, ma non riusciamo a trovarla. Quindi riusciamo a essere aperti, flessibili, tolleranti, a cambiare tattica quando ce n'è bisogno. Inoltre la felicità aumenta le nostre difese immunitarie e ci rende quindi in grado di essere più facilmente in salute e anche di essere più longevi. Il buon umore fa anche sì che riusciamo a darci degli obiettivi più elevati e anche che riusciamo a raggiungerli molte volte quindi ad andare verso il successo. La prima riflessione importante che vorrei fare oggi con voi è che la felicità si può costruire e si può coltivare e quindi in sostanza si può decidere di diventare più felici, si può lavorare per diventare più felici. Intanto chiaramente la felicità fa riferimento più ad una dimensione interiore che ad aspetti esteriori, anche se noi spesso tendiamo a ragionare al contrario, cioè a pensare mamma mia mi è successo questo e quindi sono arrabbiato, sono triste, sono in preda a tutta una serie di emozioni negative. In realtà nel momento in cui noi lavoriamo alla costruzione del nostro equilibrio è proprio questo equilibrio ad aiutarci ad affrontare le situazioni che ci accadono nel quotidiano. Innanzitutto chiediamoci che cos'è che ci rende davvero felici. Una piccola e semplice attività che volendo posso proporre magari a chi ha dei bambini è proprio quella di fare magari anche un cartellone tutti insieme oppure utilizzare semplicemente un grosso foglio da disegno, scrivere al centro la parola felicità e poi metterci attorno tutte le parole che noi colleghiamo alla felicità e magari corredare tutto questo di disegni. Così alla fine avrete davanti agli occhi tutte le cose che vi fanno felici e sarà anche un modo per aver condiviso una riflessione con gli altri membri della famiglia su quella che è la felicità per voi. Poi se ci pensate se pensate a che cos'è la felicità per ciascuno di noi noterete facilmente che probabilmente oggi rispondereste qualche cosa di diverso da quello che avreste risposto prima della quarantena. magari oggi ci accontenteremmo di andare a fare una meravigliosa passeggiata nel sole e se ce l'avessero chiesto prima dell'inizio di tutta questa faccenda magari avremmo voluto fare un viaggio in terra esotica. Quindi dobbiamo anche riflettere su appunto che cos'è la felicità per noi in ogni circostanza. Studi hanno dimostrato che contrariamente a quello che si può pensare non è assolutamente il denaro a portare la felicità o meglio. È chiaro che si deve parlare di situazioni in cui almeno si abbia un livello di sussistenza perché naturalmente per chi ha fame ovviamente il denaro per procurarsi il cibo è fondamentale ma per chi vive una dimensione diciamo così di vita media non è il denaro a portare la felicità. Quando anche uno vincesse per esempio alla lotteria avrebbe un picco di gioia momentaneo ma poi tenderebbe molto velocemente una volta esaurita la novità a tornare al suo livello di felicità base. Non è nemmeno la bellezza o successo a determinare la felicità. Pensate infatti non so a molti personaggi del mondo dello spettacolo o appartenenti a famiglie illustri che veramente sono arrivate anche a gesti estremi come al suicidio. Quindi insomma è evidente che non sono assolutamente queste dimensioni che in qualche modo garantiscono la felicità. Sono invece principalmente i nostri rapporti sociali e le attività che noi svolgiamo a farci stare bene. Anche la fede intesa sia in senso religioso sia come senso di fiducia e speranza nell'universo e come senso di appartenenza a qualcosa che va oltre se stessi. Sono delle dimensioni che proteggono l'individuo e favoriscono in qualche modo il suo benessere. La felicità quindi è legata molto più a ciò che si è che a ciò che si ha. Non dipende quindi tanto da quello che ci manca ma quanto da come noi sappiamo far uso di quello che possediamo e questo lo stiamo sperimentando molto in questi giorni no perché ci mancano un sacco di cose ci mancano un sacco di libertà ci mancano tante certezze e quindi rimaniamo con quello che c'è nel nostro quotidiano e diventa fondamentale che cosa riusciamo a farne di questo nostro quotidiano limitato. Intanto dobbiamo anche pensare che la felicità ha diversi gradi e diversi livelli cioè c'è la soddisfazione il piacere momentaneo che può derivare dal mangiarsi una tavoletta di piccolata oppure dall'andare a fare shopping quando si poteva. C'è poi il coinvolgimento invece che è quello che si sperimenta per esempio quando si svolge un'attività sportiva magari si fa fatica ci si attiva però poi si arriva da qualche parte e c'è l'appagamento che è quello sperimentiamo quando magari raggiungiamo un obiettivo vero e proprio o condividiamo un sentimento un'emozione e una relazione positiva con altri. Come possiamo allora coltivare la felicità insomma come vi dicevo all'inizio? Innanzitutto dobbiamo sapere che i pensieri positivi portano pensieri positivi e quelli negativi portano negatività. Sembra una cosa banale ma in realtà specialmente in un periodo come questo è fondamentale anche nelle piccole cose essere attenti a questo aspetto quindi se siamo giù non scegliamo film strappalacrime se dobbiamo leggere qualcosa cerchiamo di dedicarci a qualcosa che sia divertente che sia interessante facciamo nel limite del possibile appunto attività fisica concediamoci delle piccole gratificazioni come magari appunto mangiare una cosa buona ascoltare buona musica prendiamoci cura di noi stessi mente e corpo quindi possiamo usare la meditazione il respiro attivarci con tecniche di rilassamento visualizzazioni e anche prenderci cura di noi con piccole cose come insomma fare magari un buon bagno con gli oli profumati oppure vestirci o comunque sistemarci i capelli truccarci anche solo un minimo per le piccole cose cioè mantenere questi aspetti coltivare la felicità ecco oltre al fare queste cose di base no che sono un prendersi cura di noi implica anche la capacità di sforzarsi di attivare l'ottimismo cioè considerare che il problema passa ed è legato ad una situazione e ad un tempo anche se questo nel momento attuale ci viene piuttosto difficile perché una delle problematiche che non si riesce a proiettarsi in un futuro certo in cui tutto sarà tornato alla normalità è comunque fondamentale che ci ricordiamo che la normalità tornerà o comunque diciamo la nostra libertà in maniera progressiva non sappiamo esattamente come e quando ma tornerà se una cosa va in crisi non tutto deve andare in crisi quindi è fondamentale rimanere attivi e propositivi cosa possiamo fare nel frattempo possiamo dedicarci ad assaporare cioè a concentrarci sul bello e il buono che abbiamo accorgerci di quello che c'è dargli importanza per esempio un piccolo esercizio che posso suggerirvi di fare e di fare una lista dei momenti di felicità che si vivono nel corso della giornata e poi condividerla magari a tavola oppure prima di andare a dormire questo è semplicemente un piccolo lavoro che ci serve a renderci conto di quello che abbiamo di buono no allora magari possiamo scoprire che la piantina grassa che abbiamo in un angolo ha messo un fiore possiamo vivere magari un momento di grande serenità semplicemente guardando il paesaggio dalla finestra possiamo sentire il sole caldo sulla pelle non devono essere necessariamente delle grandi cose quelle che ci rendono felici ed è proprio saperci accorgere di quelle piccole assaporarle ed eventualmente condividerle che diventa fondamentale dobbiamo inoltre fare uno sforzo costante di guardare le cose con uno sguardo nuovo e quindi cercare di percepire il lato positivo mettere anche in discussione le nostre idee negative e pessimistiche intanto dobbiamo cercare di fare confronti ma fare confronti con chi è in una situazione peggiore della nostra voi pensate a questo semplicemente gli sportivi quando vincono prendono delle medaglie ovviamente chi prende la medaglia d'argento occupa sempre una ottima posizione ma tende a confrontare il proprio risultato con chi ha preso l'oro e quindi è sempre un pochino insoddisfatto chi prende il bronzo solitamente è contento perché è riuscito a salire sul podio e quindi pensa fa un confronto con tutti quelli che sul podio non ci sono saliti non col primo che ha vinto l'oro vi ho fatto questo esempio per farvi capire che magari nel momento in cui siamo non so malinconici stanchi nervosi per la situazione in cui siamo beh forse possiamo ancora dire a noi stessi che comunque non siamo in ospedale quindi ecco è negativo fare confronti con chi sta meglio di noi perché sempre esisteranno persone che comunque stanno meglio di noi ma sempre esisteranno anche persone che stanno peggio quindi le nostre convinzioni sono sempre solo delle convinzioni e i pensieri solo pensieri però dobbiamo cercare di come dire attaccare e smontare le nostre visioni pessimistiche come faremmo con gli altri quando cerchiamo di convincerli che abbiamo ragione noi e che loro invece magari hanno un'idea sbagliata oltretutto dobbiamo anche chiederci sempre se abbiamo delle alternative e quali sono e cercare di attivarci fare proprio una sorta di elenco mentale no quando ci facciamo prendere dallo sconforto andare alla ricerca invece delle cose che potremmo fare delle idee alternative creative che potremmo mettere in atto per superare questo momento e poi applicare la migliore pensate che non serve indugiare cioè anche rimuginare e lamentarsi e stare a pensare a qualcosa di negativo magari la per là ci sembra che ci sfoghi ma in realtà se noi ci soffermiamo troppo su di esso è come se occupasse uno spazio tale nella nostra mente che è ancora più grande di prima quindi in realtà non bisogna lasciare molto spazio al rimuginare sulle cose negative bisogna invece attivarsi con un modo di pensare flessibile per cercare delle nuove idee un'altra cosa molto importante per coltivare la felicità è esercitare la gratitudine vi invito infatti a pensare a tutte le persone le situazioni per cui siete grati e magari dirlo cioè cogliere l'occasione di questa situazione per riflettere su questi aspetti cioè magari saremmo tentati di pensare a tutti i fastidi che abbiamo no ma se noi invece ci concentriamo sulle cose per cui invece dobbiamo essere grati e magari lo diciamo anche alle persone che ci stanno intorno questo può essere un modo molto bello per aumentare anche non solo l'altrui livello di felicità perché sentirsi esprimere gratitudine è sempre bello ma per aumentare anche il nostro un altro elemento importante è sapersi appunto decentrare da se stessi cioè il fare qualcosa per gli altri può diventare un buon modo per stare bene quindi non solo essere grati ma anche proprio attivarsi materialmente fare qualcosa per gli altri e magari fare anche perché no una sorpresa a qualcuno in questo momento l'abitudine infatti è un pochino una nemica della felicità no e quindi la capacità di attivarsi per fare cose nuove e diverse è fondamentale un buono strumento può anche essere quello di condividere il bello cioè essere capaci di fermarsi e raccontare magari un'esperienza di felicità che abbiamo vissuto questo non solo mette in circolo emozioni positive ricordi sereni ma diventa uno strumento di condivisione e la condivisione apre poi le porte magari anche alla possibilità di un dialogo su argomenti magari nuovi magari anche delicati magari anche diventa una possibilità per riaprire in determinate circostanze una comunicazione che magari nel nostro quotidiano non era così viva come siamo presi sempre insomma da molte cose un ultimo piccolo suggerimento che posso darvi è di pensare a qualcuno che voi trovate che sia una persona solare allegra che si muova serenamente nel flusso della vita e di cercare mentalmente di imitarlo in qualche modo cioè di imitare il suo atteggiamento non lui come persona ovviamente io per esempio ho una cara amica che trovo che sia proprio così cioè una ragazza solare che anche quando le succedono delle cose negative non le prende mai troppo male riesce sempre ad affrontarle a pensare che comunque troverà una soluzione e pensare al suo atteggiamento in molte circostanze è per me un punto di riferimento per provare insomma ad imitarla e quindi anch'io ad attivarmi in questo senso ricordiamoci poi sempre che quello che ci fa star male non è quello che ci succede ma è come noi prendiamo quello che ci succede quindi su quello che noi pensiamo a proposito di quello che ci sta succedendo quindi noi non possiamo modificare ciò che avviene all'esterno ma abbiamo la possibilità di modificare i nostri pensieri quindi ricordiamoci che la felicità non è arrivare da qualche parte ma è stare in cammino in un certo modo io spero di avervi dato qualche suggerimento utile vi ringrazio di avermi ascoltata e ringrazio il gruppo che mi ospita e che mi ha dato questa opportunità e vi saluto vi auguro un buon proseguimento e tanta felicità a tutti